Il numero dei contagi lo avete sentito a Incalo, unica regione in controtendenza, la Basilicata dove la curva aumenta. Allora in diretta c'è l'inviato Lorenzo Santorelli. In settimana c'è stato il record di casi in un giorno, 380, ieri scesi a 240, numeri comunque preoccupanti per una regione che non è densamente popolata. Qui siamo in zona arancione, gli ospedali sono in affanno e per questo il motivo il presidente della regione Bardi ha chiesto al commissario Arcuri di poter effettuare uno screening di massa sul modello di quanto avvenuto in Alto Adige. I test dovrebbero partire dalla settimana prossima a Potenza e a Matera. E qui come nel resto della regione c'è incertezza non solo sulla situazione sanitaria ma anche su quella economica come vediamo nel servizio. Adesso poi la linea può tornare a Roma. Le ombre della crisi si allungano sui sassi di Matera più cupe che altrove. L'anfiteatro naturale, patrimonio dell'UNESCO, vive una recessione senza precedenti. La salute va benissimo, gli affari non vanno proprio, siamo fermi completamente, il centro si è svuotato. Camminando tra le vie e la strecate di tufo si sente il rumore dei propri passi. Lo vede lei stesso, non vedo nessuno, quindi il luogo parla da solo. In quella che l'anno scorso era la capitale europea della cultura affollata di turisti provenienti da tutto il mondo, oggi ci sono solo residenti e pendolari. Abbiamo 5-10 camere occupate ogni giorno su 70. La Basilicata intera ha pagato il prezzo più caro tra le regioni italiane, un premato negativo certificato dallo Svimez, meno 12,9% di PIL. Almeno a pagare il fitto, almeno a vedere di riuscire a pagare il fitto a fine mese. Solo questo. Le preoccupazioni dei commercianti si mescolano con le opere surrealiste di Dalì. In questa installazione c'è l'invocazione di un aiuto di cui ha bisogno tutta la Lucania.